Ciao amici, allora sono ritornata con un nuovissimo video un pochino diverso dal solito perché oggi sarà uno story time, ossia che vi racconto un episodio, una cosa che mi è successa in questi giorni se vi piacciono questi video magari dove vi racconto questi story time o delle cose assurde che mi capitano nella mia vita e che mi sono successe lasciate un pollice in su ed iscrivetevi al mio canale Yolanda Swizz tutti i giorni alle 14.30, nuovissimi video e nuovissime storie come avete letto dal titolo e purtroppo per quanto riguarda Amazon, Amazon lo sapete ha il mio cuore dal 2016 sono proprio una cliente si può dire di vecchissima data forse quando lo usavo io alcune persone già lo utilizzavano poi è subentrato Amazon Prime e quindi le persone tutti quanti a scaricarsi Amazon dal 2016 sono su Amazon e sono una loro cliente affezionata che paga l'abbonamento con Amazon Prime annualmente o mensilmente, ora non mi ricordo una cosa del genere vi devo dire che non mi era mai capitata cosa è successo, un corriere di Amazon mi ha preso in giro sono rimasta un po' interdetta diciamo da questa cosa questo video lo sto registrando tre giorni dopo l'accaduto anche perché devo ricevere ancora ulteriori aggiornamenti dall'assistenza clienti di Amazon domani, cioè quando pubblicherò questo video? non lo so quando lo pubblicherò martedì devo ricevere aggiornamenti dal servizio clienti perché ho parlato con la ragazza del servizio clienti dell'assistenza e della logistica lei lavora dal martedì al sabato e quindi giustamente a domenica e lunedì di festa sta povera ragazza giustamente e quindi mi aiuterà martedì allora, cosa è successo? voi lo sapete che io ordino tantissimo su Amazon e poi magari mi potete raccontare la vostra esperienza anche giù nei commenti se avete avuto anche voi un'esperienza del genere oppure se qualcuno di voi lavora non proprio su Amazon ma a livello di corrieri l'altro giorno dovevo ricevere tre pacchi tenete bene a mente questo numero tre pacchi da Amazon un pacco che conteneva all'interno ve lo dico perché comunque poi ci farò un video su questa cosa due pacchi che contenevano uno la resina degli stampi e un altro sempre resina UV e stampi e glitter ok? poi farò l'unboxing anche di queste cose creative che ho comprato perché ci volevo fare per l'appunto un video e poi dovevo ricevere un terzo pacco per l'appunto con all'interno dello slime ok? una cosa con lo slime dovevo ricevere per l'appunto questi tre pacchi e questo questo coso di slime questo slime non l'ho mai ricevuto cosa è successo? il corriere arriva di pomeriggio perché di solito a me i corrieri consegnano il pomeriggio dopo pranzo dalle due e mezza a tre poi dipende di solito anche la domenica io voglio alzare le mani nel senso che lo so che il lavoro del corriere è un lavoro stancantissimo cioè capisco ok? capisco tutto perché seguo anche alcuni ragazzi su tiktok ragazze su tiktok che fanno proprio questo lavoro fanno le consegne fanno i corrieri e ragazzi lo so cosa significa svegliarsi presto la mattina e andare a consegnare i pacchi avere a che fare con la gente che non ti non ti risponde lo so lo so e anche qualcuno di voi che ha o lavorate oppure ha mariti cugini fratelli che lavorano e fanno questo lavoro me lo possono dire che con certezza che è proprio così c'è una certa veramente ti stufi è vero su questo alzo le mani ed è vero però alcune volte diciamo che alcuni corrieri sono un po' nel senso che non sono molto affidabili e ti trattano i pacchi veramente malissimo come nel mio caso per l'appunto allora quindi ritorniamo alla storia tre del pomeriggio praticamente il corriere bussa il citofono della mia porta di giù non quella proprio della mia porta di casa cosa scopriamo che il portone del mio palazzo praticamente era aperto era aperto questo è un altro brutto vizio che hanno nel mio palazzo veramente vabbè questa è una cosa a parte ragazzi di lasciare il portone aperto questa è una cosa che io veramente non tollero perché può entrare chiunque vabbè comunque il corriere cosa aveva fatto ha visto la porta il portone aperto ha lasciato i pacchi fuori la porta il che ci può anche stare perché con il fatto cioè con il fatto che non vuoi stare a contatto con le persone mascherine e cose quindi insomma ci può anche stare un altro po' mi bussi e te ne stai già andando nel camion no mi devi prima bussare dici signora pacchi mi lasci li lascio terra io dico ok così si può fare non è che tu li lasci già la terra piglia e te ne vai almeno io credo che così non si debba fare o no raga ditemi un po' voi comunque cosa ha fatto sto corriere appoggiati i pacchi per terra davanti alla mia porta di casa scende bussa dal portone e mia madre va ad aprire ricordate questo mia madre va ad aprire ok perché io stavo facendo altre cose qui nel mio studio al che vede che i pacchi per terra erano totalmente rovinati ma vi dico rovinati non abbiamo ancora capito di cosa c'era sopra una sostanza unta oleosa non abbiamo capito se fosse olio se fosse shampoo bagno schiuma perché erano tutti smangiucchiati avete presente quando i pacchi si bagnano e poi si rovinano perfetto i pacchi erano tutti smangiucchiati e quindi si vedevano anche le cose che stavano dentro fortunatamente aprendo poi ho scoperto che c'era tutto ok a parte questa cosa che i pacchi erano tutti rovinati quindi il corriere chissà cosa aveva fatto rompere lanciando i pacchi perché molti corrieri dovete capire ragazzi quando stanno un po' così lanciano i pacchi comunque ho il presentimento che quella sostanza che stava sopra il mio pacco fosse penso bagno schiuma perché profumavano tantissimo i miei pacchi il corriere scendendo nel camion dice signora un attimo solo devo consegnare un terzo pacco la mia mamma aspetta quei due minuti io nel frattempo apro i pacchi per vedere se le cose dentro fossero integre ed erano integre per fortuna la mia mamma si affa ci dice allora qualche altra cosa no no tutto a posto prende e se ne va la mattina dopo sono andata a controllare gli ordini che mi dovevano arrivare ovviamente il giorno dopo controllando gli ordini e vedendo quello che mi era arrivato anche il giorno prima mi risulta questo questo scatolo di slime consegnato quando poi non mi era mai stato consegnato allora io dico ma fa che doveva venire un altro corriere fa che l'ha consegnata alla vicina cosa faccio busso la mia vicina di casa che di solito prende i miei pacchi la busso dico per caso avete un mio pacco no no non abbiamo niente ti puoi chiedendo da Alexa perché Alexa praticamente ti può dire quanti pacchi quel giorno ti possono arrivare mi aveva confermato che quel giorno dovevano arrivarmi tre spedizioni tre spedizioni però a quanto pare da sempre lo stesso corriere allora cosa faccio chiamo l'assistenza clienti che mi passa comunque la logistica di Amazon ho parlato con questa ragazza che è stata davvero gentilissima fortunatamente l'assistenza di Amazon santoni veramente molto molto bravi e molto disponibili che praticamente cosa ha fatto sto corriere non mi ha mai dato il pacco mai questo pacco io non l'ho mai ricevuto però sopra all'app di Amazon risulta consegnato a me questo slime serviva per farci un video io non l'ho mai ricevuto ho detto guarda vi ho spiegato tutta la situazione come lo sto spiegando a voi all'interno di questo video ho detto addirittura il corriere i pacchi me li ha consegnati tutti sporchi tutti malandati tutti brutti senza consegnarmi il terzo pacco come qua risulta consegnato perché ragazzi per risultare consegnato un pacco il corriere lo deve scannerizzare così ora ditemi se è sbagliato oppure no il mio ragionamento siccome erano tre pacchi io l'ho visto di persona cosa fa il corriere ogni pacco lo deve scannerizzare se sono tre se sono tre ok quindi praticamente tu cosa hai fatto corriere hai scannerizzato tre pacchi ma mi ne hai dati solo due mi serviva per un video mannaggia e quindi ho parlato all'assistenza clienti che giustamente sono sempre un po' titubanti perché comunque è pur sempre la tua parola contro quella del corriere perché dicono e se tu veramente l'hai ricevuto il pacco ma stai facendo ricorso per una cosa che hai ricevuto in realtà no perché io in tutti questi anni otto anni quanti so che sto con Amazon non ho mai fatto una cosa del genere mai non mi è mai successa infatti l'ho detto questa è la prima volta non mi è mai capitata una cosa del genere la ragazza mi ha mandato un'email dicendo che io fortunatamente sono tutelata al 100% su queste cose e che il corriere che mi doveva consegnare il terzo pacco era sempre lo stesso che mi ha consegnato anche gli altri due pacchi qualessa fosse la cifra ragazzi di questo oggetto questa cosa non va bene ok perché giustamente adesso il problema ce l'avrà anche il corriere che adesso loro si devono mettere in contatto con il corriere che giustamente diranno ma io il pacco l'ho consegnato perché è un classico da ragazzi che lui dirà che il pacco l'ha consegnato una cosa che non deve capitare c'è una cosa che non deve succedere raga questa sono curiosa di vedere se sempre lo stesso corriere mi verrà a consegnare di pacchi perché comunque ci voglio parlare io da vicino a sto ragazzo per dire ma perché non mi consegnate il pacco va bene amici allora questo è il mio story time con il corriere di amazon vi ringrazio per avermi ascoltata fatemi sapere le vostre esperienze in un commento io vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao